La morte è la prima giornata, le squadre le due femmine 1200 in linea hanno preso il via a questi atleti per questo tratto di percorso per i giri completi per superare la distanza prevista per la loro gara in linea, ricordiamo di essere fissati per questa categoria su 1200 metri. Se 12 come detto le atlete, 12 le atlete che vediamo sul percorso superare il passaggio dei tre giri a termine in questo istante in una situazione che deve avere tutte raggruppate, tutte raccolte in un unico gruppo di testa che sta procedendo con un'andatura già buona dalle primissime battute della gara e che viene dettata, l'andatura stessa viene dettata dalla concorrente della Polisportiva di Bellotto. Ma a sospingere questa concorrente davanti al gruppo tutte le altre atlete che come possiamo vedere sono perfettamente raggruppate alle sue spalle. Due giri a termine sul prossimo passaggio. Due giri alla conclusione per questo gruppo di atlete che si appresta ad affrontare questo traguardo in forma equilibrata.